Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata per l'orientamento. Io sono Marina Feila, sovraintendente agli studi. Qui con me oggi per presentarvi l'offerta formativa 2023-2024 ci sarà la collega Antonella Mauri, che è la referente regionale presso il nostro ufficio supporto autonomia scolastica. Poi abbiamo, e ringrazio anche i colleghi del Dipartimento Politica e del Lavoro e della Formazione, in particolare abbiamo la coordinatrice, la dottoressa Riccardi e abbiamo anche il collega Paronna, che si occuperanno di presentare la parte relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale unitamente a un quadro su quello che è il fabbisogno da parte delle nostre aziende. Quindi il taglio della serata di oggi non sarà soltanto legato alla presentazione dei percorsi di istruzione, quindi i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, ma anche un momento proprio dedicato a quella che è l'istruzione e formazione professionale. Proprio perché, come abbiamo anche detto, in più occasioni è importante valorizzare, sono contenta anche che ci siano in sala alcuni ragazzi, quelli che mi rivolgo a voi in particolare, e i vostri talenti, utilizziamo adesso questo termine, quelle che sono le vostre attitudini. Non ci sono scuole di serie A o di serie B, non è che bisogna andare per forza in un liceo se ho la media del 9 o del 10, oppure se ho qualche difficoltà devo andare in un altro grado o tipo di istruzione, professionale o meno. L'importante è proprio anche capire quali sono i nostri interessi, qual è il nostro impegno, se abbiamo anche delle altre attività che svolgiamo magari oltre a quelle scolastiche. Non so, sentite bene o anche giù in fondo? Ok, perfetto. Quindi, come vi dicevo, bisogna fare attenzione alla scelta, è una scelta importante, siete ancora piccoli, tra virgolette, nel senso che è chiaro che avete 13 anni e magari a volte può anche spaventare fare una scelta per un quinquennio e poi anche già avere le idee chiare su quello che si deve fare magari in un percorso poi universitario oppure lavorativo. Tuttavia, la terza e media, ma anche prima, dovrebbe portarci a fare, aiutate ovviamente dai vostri genitori e dagli insegnanti, questa scelta. Per quanto riguarda, ecco un piccolo invito che vi faccio, è di seguire, vediamo se i ragazzi lo sanno, il consiglio orientativo. Sapete ragazzi il consiglio orientativo, ve ne hanno parlato gli insegnanti a scuola? Sì, ecco, ok, perfetto. Allora, questo consiglio orientativo non è che si deve prendere soltanto per vedere, mi hanno indicato la scuola X piuttosto che la scuola Y. Nel consiglio orientativo emergono tutte quelle che sono state delle attività svolte in questi anni, nel triennio e anche gli insegnanti che probabilmente vi conoscono un po' di più, perché avrete, spero, degli insegnanti anche dalla prima che vi hanno portato in terza, che vi possono quindi aiutare, consigliare ai genitori comunque quale percorso andare ad intraprendere. Purtroppo, questo l'ho già detto anche in altre serate, questa è quella conclusiva qui ad Aosta, ne abbiamo fatto una Morgé e una anche ieri in Bassavalle, è emerso soprattutto dai dirigenti delle scuole superiori che abbiamo un alto numero, soprattutto quest'anno, di passaggi, cosa vuol dire, di studenti che al primo anno delle superiori, in questo periodo e alcuni purtroppo già anche prima a novembre, si sono resi conto che la scelta fatta non era quella desiderata, che probabilmente c'erano delle difficoltà e quindi volevano andare in un'altra scuola. Purtroppo però si trovano in una lista di attesa. Cosa significa? Che le scuole si sono organizzate, hanno avuto l'organico, gli insegnanti, per attivare X numero di classi. Quindi se c'è una classe già di 24-25 alunni, ecco non abbiamo classi con 30-31 alunni fortunatamente, però non è che si possono accogliere poi 4-5 studenti in quella classe. Ci sono anche degli alunni con bisogni educativi speciali, con disabilità, quindi magari anche una classe che forse ha 21-22 alunni, però se anche dei ragazzi che hanno bisogno di particolari attenzioni o di fragilità, non è che si possono prendere altri 3-4 studenti. L'altra cosa che forse i genitori non sanno e che magari anche voi non sapete è che l'anno successivo non è che è poi così scontato che magari se l'anno tutto sommato sono riuscito a rimanere in quella scuola, però voglio cambiare l'anno dopo, lo posso fare. Perché? Chi avrà priorità a iscriversi nella classe prima l'anno successivo? Quelli della terza media. Quindi gli studenti che sono in un percorso di prima superiore, che magari vogliono ancora dopo la fine della prima cambiare magari il percorso, di nuovo non è così scontato che questi studenti riescano ad andare in quella scuola. Uno diceva beh ma c'è anche la seconda scelta. Ecco facciamo attenzione, dopo lo vedremo un po' più nel dettaglio, a che cosa significa effettuare questa seconda scelta. Non è che io ne faccio una, la prima, poi non mi piace e a ottobre, novembre mi sposto nella seconda. La seconda scelta, come il Ministero fa a livello nazionale, addirittura il Ministero ne mette tre, serve solo nella fase di iscrizione, cioè qualora non fosse possibile, questo all'amministrazione, far partire, attivare il corso, magari perché non si arriva a 20 alunni, ad esempio, che è il numero minimo per l'attivazione del percorso, a quel punto allora subentra la seconda scelta. Oppure magari faccio una scelta di una scuola paritaria, quindi non supero magari il test, non riesco ad entrare, allora c'è la seconda scelta. Ma non è che perché io ho fatto, ripeto ancora una volta, una seconda scelta, non mi piace la prima, allora posso decidere poi di andare in questa seconda scelta. Quindi ecco, vorrei proprio veramente sottolineare questa importanza del consiglio orientativo, di quello che è una scelta non fatta magari, anche se so che a volte è difficile, perché i miei compagni, quelli che sono più amici, vanno in quella scuola lì, allora vado lì, perché mi hanno detto che lì non c'è proprio un bell'ambiente, e quindi forse non conviene andare a fare quel percorso. Ecco, lo so che può sembrare magari adesso un po' banale quello che dico, purtroppo però alla fine magari molte scelte si fanno anche tenendo conto, non di quelle che sono veramente delle attitudini o quello che è l'impegno che io magari riesco a dedicare allo studio, e poi purtroppo abbiamo questo discorso di passaggi e anche di abbandoni, il tasso che abbiamo purtroppo in Valle d'Aosta di dispersione scolastica è abbastanza elevato perché siamo intorno al 14%. Poi abbiamo dei buoni risultati, come ho detto anche in altre occasioni, sui test invalsi, sulle prove comunque che si fanno anche a livello nazionale, però purtroppo un elemento di riflessione su cui tutti dobbiamo lavorare, quindi oggi sono molto contenta che ci siano così tanti genitori presenti perché proprio la transizione tra il primo e il secondo ciclo, tra la terza media e la prima superiore, è uno step, un passaggio importante. Riceverete quindi un po' di informazioni, però queste slide che noi proiettiamo le potrete trovare sul sito di WebEcall, in ogni istituzione scolastica c'è comunque un referente per l'orientamento che vi potrà supportare, la professoressa Mauri e i colleghi del Dipartimento del Politico e del Lavoro saranno comunque a vostra disposizione eventualmente per anche domande che ci saranno a fine della serata o comunque anche prima delle iscrizioni. Qualche data, visto che la circolare ministeriale è uscita e noi a livello regionale la faremo uscire nei prossimi giorni, inizieranno il 9 di gennaio, quindi un lunedì a partire dalle ore 9 e andremo, a differenza del ministero che va fino al 30, noi abbiamo anche Sant'Orso eccetera, quindi andiamo invece noi fino a venerdì 3 febbraio, quindi diamo qualche giorno in più. Quindi avete ancora tutto il tempo per poter andare agli stand, alle scuole a porte aperte, quindi ci sarà sia su dicembre anche su gennaio altre date che vi permetteranno quindi di visitare assieme a voi ragazzi e ai vostri genitori le scuole perché poi leggere sul sito, ma andare veramente nella scuola, visitarla, incontrare magari degli studenti che hanno più o meno la vostra età e che hanno fatto questa scelta, credo che sia veramente un'opportunità da sfruttare. Quindi io non mi dilungo oltre, lascio la parola ai colleghi, finita questa oretta, ecco così vi do anche la tempisca di presentazione, avremo una mezz'ora anche di più per un confronto e per eventuali domande. Quindi prego Antonella, ti lascio la parola. Ah scusate, solo per correttezza, ci hanno chiesto i referenti e altri genitori la possibilità di registrare questa serata, quindi la registreremo giusto per correttezza se qualcuno poi di voi vuole anche intervenire, sa che comunque è registrato, lo pubblicheremo su web e call, non è che lo mandiamo in giro, però giusto perché voi lo sappiate per dare la possibilità anche ai genitori che non sono riusciti a venire oggi in presenza di riascoltare in particolare la descrizione dell'offerta formativa. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Antonella Mauri e vi presento i percorsi che si aprono ai ragazzi superato l'esame di stato di primo ciclo, cioè l'esame di terza media. Allora come vedete nella slide ci sono tre percorsi quinquennali, licei, tecnici e istituti professionali e ci sono poi i percorsi triennali e quadriennali delle IFP, istruzione e formazione professionale che lasciamo presentare al Dipartimento delle Politiche del Lavoro. Noi ci concentriamo sui primi tre percorsi, cioè sui percorsi quinquennali. Allora qui vediamo alcune delle caratteristiche peculiari e anche delle finalità che intendono promuovere queste tipologie di scuole. La finalità del liceo è quella di creare una cultura generale nello studente e non soltanto questo. Lo scopo fondamentale è quello di insegnargli ad assumere uno spirito critico, a problematizzare, a contestualizzare, ad avere una conoscenza approfondita della realtà e del presente, attraverso anche lo studio del passato, sapendo istituire dei confronti, delle relazioni e approfondendo in particolare i nessi causali. Per quanto riguarda i tecnici, possiamo dire che la figura in uscita, il profilo in uscita, il profilo educativo è quello che si prefigura attraverso uno studente che ha una buona cultura di base, ma che ha una propensione pratica maggiore. I tecnici infatti sono finalizzati a incrementare delle competenze di progettazione, di pianificazione, con un'attenzione particolare, con un focus particolare sui processi. I professionali forniscono una buona cultura di base, ma sono ancora più concentrati sulla tema della tecnologia, degli strumenti, delle strategie per realizzare dei prodotti e presentano quindi delle peculiarità e delle modalità più applicative. Ecco, qui si ripetono un po' le stesse cose che abbiamo detto prima. Diciamo che lo sbocco naturale dei licei è il proseguimento nel settore terziario dell'istruzione. per i tecnici e i professionali si profilano invece due diverse possibilità, cioè l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità ancora nel settore del terziario. Ecco, la scelta tra i tecnici e professionali è una scelta che deve essere profondamente legata alla conoscenza dei propri interessi, delle proprie capacità e non c'è assolutamente una graduatoria, l'importante è tenere presente la propria capacità di apprendere, la propria modalità di apprendere, se è più legata all'astrazione, a processi conoscitivi appunto di carattere culturale o se c'è più attenzione invece se c'è più facilità da apprendere in modo laboratoriale, attraverso il lavoro in equip o con altre modalità. Veniamo ora a illustrare sinteticamente le specificità della scuola valdostana. Allora, notiamo il biplurilinguismo, italiano e francese sono messi sullo stesso piano, spesso e volentieri nei corsi di studi abbiamo l'insegnamento della lingua inglese in DNL, cioè in discipline non linguistiche. Può darsi che fisica, matematica, piuttosto che scienze o altre discipline che non sono proprio linguistiche siano insegnate appunto in inglese con metodologia CLIL. Alcune scuole, due in particolare, le vedremo, hanno in uscita questo ESABAC, vale a dire un diploma binazionale valido sia per l'italiano, esame di Stato e BAC, BAC laurea. Abbiamo poi un'altra caratteristica che è un'eredità del periodo della didattica a distanza del periodo Covid, rinnovamento della scuola in senso digitale. Queste modalità di apprendimento che abbiamo acquisito in quel periodo rimangono tesaurizzate e sono, diciamo, qualcosa in più che abbiamo fatto nostro nel processo di apprendimento. L'innovazione è quella apportata dalle classi ed espora. Il protocollo, che è stato firmato recentemente, fissa per gli studenti sportivi che raggiungono dei livelli agonistici a livello regionale, un calendario e delle prove, interrogazioni, verifiche, eccetera, flessibili. Si cerca di salvaguardare sia l'interesse sportivo e sia la riuscita scolastica dello studente, cercando di conciliare questi due interessi e non obbligandolo a scegliere tra due alternative. Viene istituito un patto di corresponsabilità tra la scuola, la famiglia e l'associazione sportiva. È importante che si crei una sinergia tra il tutor sportivo e il referente di questo progetto all'interno della scuola. Gli alunni sportivi possono, atleti, possono usufruire di piattaforme con e-learning per supplire a tutte quelle lezioni che non possono frequentare in presenza, in quanto sono impegnati magari in gare e in allenamenti. Per loro è prevista anche l'attivazione di corsi di recupero e sportelli. Nella nostra regione poi c'è la fortuna di avere i libri di testo gratuitamente o tramite bonus oppure tramite comodato d'uso, prestito con comodato d'uso. Nelle altre regioni è molto onerosa la spesa che le famiglie invece devono affrontare per comprare materiale scolastico e libri di testo. Passiamo adesso ad analizzare il primo segmento, cioè l'istruzione liceale, con le sue caratteristiche. Allora, chi si iscrive al liceo? Chi è interessato a intraprendere uno studio continuo e particolarmente approfondito? Non dobbiamo illuderci sul fatto che non ci sia da studiare molto nel liceo. Questa è una caratteristica essenziale, per cui dobbiamo confrontarci con questa attitudine, con degli interessi culturali piuttosto ampi e con interesse per la lettura, per analizzare, per capire, decodificare la cultura del nostro tempo e sviluppare degli interessi anche per il passato. Nel primo biennio si consolidano le competenze acquisite nel primo segmento della secondaria, cioè nelle scuole medie, e si iniziano a studiare le materie nuove, le materie di indirizzo. Nel triennio si approfondisce la metodologia di queste materie peculiare del tipo di scuola e si allargano sempre più gli orizzonti culturali cercando di instaurare dei legami interdisciplinari e cercando di dare un senso al proprio mondo culturale che si sta costruendo. All'interno dei licei sono in vigore i PCTO, cioè l'ex alternanza scuola lavoro, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il numero minimo è un pacchetto di 90 ore che vengono spalmate sui cinque anni del liceo. Non è un quantitativo particolarmente elevato se confrontato con quelle altre tipologie di scuole, con i tecnici e con i professionali. Allora adesso passiamo in rassegno un po' a tutte le offerte della nostra regione. Allora, partiamo dal liceo artistico. Il liceo artistico è presente solo ad Aosta, per cui per chi lo desidera frequentare è necessario immaginare di spostarsi, di viaggiare oppure di usufruire dei convitti. Ce ne sono due nella città di Aosta, il convitto Chabot, convitto regionale e il San Giuseppe eventualmente. Allora, al liceo artistico si dà ampio spazio alle competenze di creatività e di espressione di creatività. Nel biennio le materie di indirizzo sono le discipline pittoriche, sono le discipline geometriche e plastiche. Nel triennio si inizia con la grafica e con la fotografia. Lo studio della storia dell'arte è molto ampio, abbiamo tre ore settimanali in questa disciplina. Non mancano ovviamente le materie scientifiche come matematica e fisica, che sono presenti sul tutto il quinquennio, e scienze per i primi quattro anni del corso di studi. Molto spazio si dà anche allo studio delle lingue, delle letterature italiana, inglese e francese, e della filosofia nel triennio. Liceo classico è presente solo ad Aosta. Le discipline portanti, le discipline caratterizzanti sono il greco e il latino, ma non solo, anche l'italiano e il francese. Lo studio è approfondito soprattutto sul segmento di carattere letterario e di carattere culturale. Attraverso il greco e latino si cerca di dare una prospettiva sul passato per giungere appunto allo studio del presente, anche grazie allo studio della storia e della filosofia, studiare il passato per capire meglio il presente. Storia dell'arte e scienze sono presenti sin dal ginnasio, l'inglese è previsto per tutti e cinque gli anni. Attenzione, non bisogna scegliere il liceo classico se non piace la matematica, vale a dire questo non deve essere un criterio per indurre a fare questa scelta, in quanto nel liceo classico c'è questo piano di potenziamento della matematica e quindi bisogna starci molto attenti. Nel triennio del liceo classico, per chi lo desidera, sia il liceo classico di ordinamento, sia il liceo classico bilingue, che vedremo successivamente, c'è questa curvatura biomedica nel triennio. Vale a dire ci sono 150 ore previste, 50 al terzo anno, 50 nel quarto e 50 nel quinto, in cui gli insegnanti di scienze del liceo e i medici dell'ospedale Parini tengono delle lezioni di approfondimento sui temi della biologia e dell'anatomia. Passiamo adesso al liceo classico bilingue. Nelle discipline sono previste degli atelier bilingue, il 30% delle ore sono realizzate in francese, con la compresenza tra l'insegnante titolare della cattedra e un assistant francophone de langue française. Greco e latino, a differenza del liceo classico, qui sono considerate materia unica e sono studiate in modo comparativo. Si tratta di lingue e discipline classiche. L'inglese è studiato nell'arco dei cinque anni. La peculiarità del liceo classico bilingue è quello che presenta una dimensione europea. C'è molta apertura nei confronti degli stage, soprattutto con i paesi francophoni. Ecco qui non si vede tanto bene l'ultima riga. Ecco questa è una delle scuole in cui è attivato il progetto ESABAC, per cui doppia maturità, doppio riconoscimento, diploma binazionale. Passiamo al liceo musicale, anche questo presente solo in Aosta e partiamo dalla fine. Vale a dire, per accedere al liceo musicale è necessario affrontare e superare un'audizione in cui si mettano in luce le proprie capacità, le proprie competenze, le proprie attitudini. Quindi bisogna avere proprio una vocazione particolare, delle competenze anche in entrata. Abbiamo lo studio di due strumenti. Il primo strumento che viene presentato per cinque anni, viene affrontato per cinque anni. Il secondo strumento per quattro anni. Le materie caratterizzanti, oltre a strumento, sono la composizione musicale, la storia della musica e le nuove tecnologie musicali. Anche qui si studiano la letteratura, la storia, la filosofia in italiano, in inglese, francese, c'è la storia dell'arte, per cui abbiamo anche qui una buona base di preparazione culturale. Matematica, scienze e fisica sono presenti per i cinque anni. Liceo linguistico. Qui abbiamo molta più scelta, nel senso che il liceo linguistico è presente a Verresse, nella bassa valle, ad Aosta, e qui si tratta di licei linguistici regionali, e poi il liceo linguistico di Courmayeur, che è paritaria, scuola paritaria. Qui hanno ampio spazio le lingue, come l'inglese e il tedesco, e c'è da dire che un'ora settimanale di queste due lingue è riservata a un insegnante di madrelingua che promuove appunto l'ora di conversazione in lingua, per rendere, per facilitare l'uso, l'acquisizione della lingua. Dal quarto anno abbiamo l'insegnamento di una disciplina non linguistica, in L3, e in particolare il liceo linguistico di Verresse è la seconda scuola regionale che presenta il diploma binazionale ESABAC, che viene conseguito dopo la realizzazione di un percorso triennale di storia in francese e altre discipline che in parte vengono presentate in francese e in parte in italiano. Courmayeur presenta un liceo linguistico con una sezione sportiva e questa apertura allo sport è sottolineata dalla presenza di discipline come diritto economia dello sport, scienze e psicologia dello sport, e quindi c'è un'apertura e un focus molto particolare su questo progetto. Licei scientifici. Allora, ne abbiamo a Verresse e ad Aosta e questo liceo scientifico di impianto, diciamo così, più tradizionale, presenta due opzioni. Queste opzioni riguardano solo il biennio, quindi i primi due anni. A Verresse e ad Aosta c'è l'opzione scienze naturali, ciò significa che settimanalmente si studiano scienze per quattro ore settimanali e fisica per due ore settimanali. Nell'opzione fisica, che è presente soltanto ad Aosta, si fa esattamente il contrario, cioè per quattro moduli settimanali si studia fisica e per due moduli invece scienze. È chiaro che laddove l'approfondimento sulla disciplina è di quattro moduli, c'è la possibilità di andare in laboratorio, sperimentare, quindi affrontare le materie, non soltanto da un punto di vista teorico ma anche molto pratico. Le discipline caratterizzanti sono naturalmente matematica, fisica, chimica e scienze naturali. Nell'iceo scientifico, l'impianto tradizionale, troviamo anche la lingua latina e anche le discipline umanistiche, quindi la storia, la filosofia, le letterature, le lingue hanno un ampio spazio e quindi propongono una formazione culturale di base molto ampia, molto approfondita, anche se il focus del liceo scientifico è soprattutto sul metodo. Lo scopo è quello di creare una mentalità critica e un'operatività scientifica, una mentalità scientifica che si rivela anche nell'approccio metodologico e nella comunicazione. Allora c'è anche un'altra tipologia di liceo scientifico, ad Aosta soltanto, ed è l'opzione scienze applicate. Anche qui le discipline caratterizzanti, come abbiamo visto prima nel liceo scientifico, l'impianto tradizionale sono matematica, fisica, chimica, scienze naturali, invece del latino in questo caso troviamo l'informatica, per cui anche qui cultura generale ampia, troviamo una mentalità scientifica, un metodo di lavoro tipicamente scientifico, però con un approccio più pratico legato soprattutto alle nuove tecnologie. Vediamo adesso il liceo delle scienze umane, che si trova ad Aosta, e l'opzione delle scienze umane economico-sociale che è presente sia ad Aosta e sia a Berres. Le discipline caratterizzanti sono la psicologia, sono l'antropologia e la sociologia, che rappresentano le chiavi di lettura del presente, della cultura, della contemporaneità. Altre discipline molto importanti, soprattutto nell'indirizzo economico-sociale, sono la storia, l'economia, il diritto, e questa tipologia di liceo ha colmato un vuoto, diciamo così, culturale, che era presente negli altri licei europei, ma non nemmeno nei licei italiani, in quanto non c'era un approfondimento, fino a quando non è stato fondato questa opzione economico-sociale, del liceo delle scienze umane, con un approccio economico e giuridico particolarmente rilevante. Passiamo adesso all'istruzione tecnica, istruzione quinquennale, che è divisa in due settori, settore economico e settore tecnologico. Prendiamo in esame di volta in volta tutto. Allora, anche qui avevamo visto la durata del corso di studi è quinquennale, abbiamo un diploma di istruzione tecnica in uscita con l'indirizzo specifico che si è scelto. Allora, le caratteristiche generali sono quelle che avevamo un po' accennato, che adesso vediamo un po' di approfondire. Innanzitutto, qui viene fornita una buona base di cultura generale, questo non dimentichiamelo, perché anche qui si studiano le lingue, si studia la storia, si studia l'italiano, si studia la letteratura, però, diciamo, le caratteristiche rilevanti e rimarchevoli sono la didattica di laboratorio, quindi non soltanto un apprendimento di carattere teorico, ma una messa in pratica di quello che si apprende. Qui, infatti, vediamo che le ore dedicate alle competenze trasversali e l'orientamento, percorsi per le competenze, è quasi, scusate, duplicato rispetto alle ore liceali, perché qui si prevedono almeno 150 ore in tutto il percorso. Questo corso di studi è caratterizzato da una grande flessibilità didattica in base alle esigenze della classe, in base alle esigenze degli studenti e alla necessità, appunto, di plasmare la programmazione, soprattutto attingendo all'esperienza laboratoriale. Si utilizzano delle metodologie didattiche tecnologicamente avanzate e quindi l'informatica e metodologie tecnologiche sono proprio implementate e incrementate rispetto, per esempio, ai percorsi liceali. Allora, iniziamo a vedere il settore economico. Allora, amministrazione, finanza e marketing, presente sia a Verres sia ad Aosta, AFM, è l'acrossico che individua questo settore. Si tratta della vecchia ragioneria che è stata aggiornata e modificata in base alle esigenze di una istruzione molto più attuale. Le materie di indirizzo sono economia aziendale, diritto ed economia. Anche qui abbiamo però una buona base di preparazione su tutte le discipline e di cultura generale. Turismo. Allora, questo approfondimento cultura è presente sia a Verres sia ad Aosta. Anche qui le lingue ricevono una grande visibilità, sono molto importanti, francese, inglese e tedesco. A differenza però del liceo linguistico, qui l'interesse è legato soprattutto al patrimonio artistico, al patrimonio culturale, al paesaggio, alla geografia turistica, all'arte e al diritto e alla legislazione turistica. Passiamo adesso al settore tecnologico, dove abbiamo un'offerta ricca. Allora, partiamo dal cosiddetto CAT che è presente ad Aosta, costruzione, ambiente e territorio. Quello che erano i vecchi geometri, anche qui con numerosi ammodernamenti e con numerosi apporti innovativi. Allora, innanzitutto lo studio del suolo e del territorio, la geopedologia, la topografia, progettazione, costruzione, impianti e in questo periodo caratterizzato dalla transizione ecologica, un tipo di studio di questo tipo risulta particolarmente attuale, particolarmente rispondente ai bisogni, ai goal dell'agenda 2030. Abbiamo anche tutto il discorso di gestione del cantiere della sicurezza dell'ambiente di lavoro. Elettronica ed elettrotecnica. Questi due indirizzi sono presenti, queste due opzioni sono presenti a Verres e ad Aosta. Inutile dire che le materie caratterizzanti sono elettronica e elettrotecnica, sistemi automatici, quindi con apertura alla robotica, tecnologie e progettazioni di sistemi elettrici ed elettronici. Anche questo corso di studi si rivela particolarmente interessante e particolarmente attuale in quanto sappiamo tutti quali sono i problemi energetici che stiamo affrontando, quindi questo è particolarmente importante e particolarmente rilevante. Informatica e telecomunicazioni presenti a Verres e ad Aosta. Anche qui le materie sono l'informatica, sistemi e reti, tecnologie e progettazioni di sistemi, telecomunicazioni. In quest'epoca in cui anche attraverso il PNRR si fa riferimento soprattutto alla transizione digitale, questo studio, questo corso, riveste una particolare importanza e gioca un ruolo molto molto attuale per chi naturalmente ha la passione e ha l'interesse. Allora, agraria, agroalimentare e agroindustria. Questo percorso quinquennale è presente solo a Daosta, non si tratta di una scuola regionale ma di una scuola paritaria e qui le materie fondamentali sono produzioni vegetali, per esempio ortocultura, silvicultura, produzioni animali, trasformazioni dei prodotti, per esempio nell'ambito caseario o nella filiera per esempio del grano e dei cereali, economia e biotecnologie agrarie. È un corso di studio, anche questo molto molto attuale, legato al settore primario della nostra economia e possiamo dire un percorso molto green. Passiamo adesso all'istruzione professionale, sempre quinquennale e anch'essa piuttosto variegata, anch'essa si conclude con il diploma. Una didattica questa rispetto ai tecnici ancora più laboratoriale, ancora più attiva. I percorsi per le competenze trasversali aumentano ancora di più, si tratta di almeno 210 ore nell'arco del quinquennio. La caratteristica è l'acquisizione di competenze professionali, basate anche sull'attività laboratoriale e soprattutto sul teaming, sul fatto di lavorare in gruppo. La caratteristica peculiare è il PFI, progetto formativo individuale. Allora, questo PFI si prende cura del progetto di vita e si prende cura delle competenze, sia da consolidare e sia da costruire in ogni singolo alunno, possiamo dire. Per cui gli alunni in questi corsi di studi sono particolarmente seguiti, ricevono un'attenzione, possiamo dire, individualizzata e i docenti si preoccupano di aiutarli proprio ad esprimere tutte le loro potenzialità e a realizzare tutte le loro attitudini. Allora, nell'ambito di queste scuole quinquennali troviamo alcuni indirizzi, dunque servizi per la sanità e l'assistenza sociale, presenti sia a Verres e sia ad Aosta, che fanno riferimento non soltanto ai soliti, tradizionali segmenti di bisogni della popolazione, legati per esempio all'infanzia e all'assistenza degli anziani, ma dopo questo periodo di Covid, dopo questo periodo emergenziale, prestano particolare attenzione anche alle famiglie, a tutti i giovani la cui vita è caratterizzata da diversi disagi e si tratta di una professionalità questa molto utile anche nel nostro contesto territoriale, in quanto sappiamo delle carenze a livello sanitario di cui afflitta non solo la nostra regione ma tutta la realtà italiana. Abbiamo poi servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera a Châtillon, si tratta di una scuola paritaria in cui abbiamo l'indirizzo sia sala e bar e sia l'indirizzo cucina. La preparazione degli studenti è molto curata in questi settori, hanno un'ottima preparazione anche di carattere culturale, di base e una specializzazione anche molto elegante in queste discipline. Abbiamo poi produzioni industriali per il Made in Italy a Châtillon nella scuola, in una scuola paritaria che è l'Istituto Don Bosco e qui si parla soprattutto della lavorazione e della lavorazione del legno a livello industriale, a livello artigianale, si cura anche tutto il discorso della commercializzazione e si presta anche particolare attenzione a una realtà economica che è particolarmente importante per la regione, quella appunto dell'artigianato in legno. Manutenzione e assistenza tecnica, sempre a Châtillon, sempre al Don Bosco, riguarda soprattutto l'elettronica, l'elettrotecnica, la meccanica e le figure in uscita sono particolarmente preparate, particolarmente richieste dal mercato, quello per operatore e macchine utensili, per ditte e per per industrie meccaniche, poi figure di manutentore, per impianti di risalita, per attrezzature, per la movimentazione, terra neve e così via. Abbiamo poi il GARA, l'ultimo delle scuole nati in ordine di tempo e fondata cronologicamente, che è la gestione delle acque e rissanamento ambientale, che si trova esclusivamente ad Aosta. Ecco, i cambiamenti climatici e in particolare la gestione idrogeologica del territorio assegnano una particolare importanza a questo tipo di scuola che ha una grande attualità e che è destinato a svolgere un grande ruolo. Allora, io lascio poi questa parte ai colleghi, mi soffermo come, ma non più di tanto perché già aveva parlato un po' la sovrintendente di questo, sull'obbligo di istruzione. Vale a dire sul fatto che uno studente non può abbandonare il sistema scolastico prima di aver realizzato 10 anni scrutinati all'interno del percorso scolastico. Quindi se uno studente inizia la scuola primaria a 6 anni, conclude il proprio obbligo a 16 anni, purché tutti gli anni siano stati scrutinati. Vale a dire se un anno non fosse stato scrutinato perché l'alunno ha accumulato più del 25% delle assenze, allora quell'anno non viene computato nell'obbligo scolastico. Come la sovrintendente aveva detto precedentemente, occorre prestare molta attenzione alla seconda scelta perché non deve essere casuale, ma nel caso in cui appunto non si riesce ad accedere alla prima scelta, anche questa seconda scelta deve risultare particolarmente motivante. Se si desidera affrontare uno studio in un'istituzione scolastica paritaria, occorre metterla come prima scelta, questo è il consiglio che si dà e d'obbligo come seconda scelta occorre indicare un'istituzione scolastica pubblica regionale. Ecco, questo è quello che avevamo detto, per essere certi che la propria scelta venga rispettata e che non ci siano problemi particolari. Io ho concluso questa parte, cedo la parola ora ai colleghi. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Paron e qui con me c'è Stefania Riccardi. che è la coordinatrice del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, dipartimento che in sintonia con la sovrintendenza agli studi, diciamo che cura e organizza i percorsi IFP, ovvero i percorsi di istruzione e formazione professionale. Si tratta di percorsi, come avete visto in una delle prime slide che si trovano sostanzialmente in parallelo con i percorsi quinquennali di istruzione e che consentono di comunque assolvere, è una cosa che abbiamo appena visto, ovvero l'obbligo di istruzione, non solo ma anche al diritto di istruzione, ovvero di ottenere comunque entro i 18 anni, i 18 anni, i 19 anni, almeno una qualifica o un diploma professionale. Che cos'è l'istruzione e la formazione professionale? Si tratta di percorsi formativi della durata di tre anni che portano all'ottenimento di una qualifica professionale oppure di quattro anni che portano all'ottenimento di un diploma professionale. Quali sono le caratteristiche particolari di questo tipo di percorsi? Sono percorsi fortemente legati al mondo delle imprese, quindi c'è una forte sinergia tra la formazione che si svolge a scuola o presso un ente di formazione e le imprese presso cui si svolgono gli stage, poi entreremo un po' più nel dettaglio, e che quindi consentono di fare molta esperienza pratica senza dimenticare le materie di base. Cosa vuol dire? Vuol dire che al di là dei percorsi molto professionali, molto tecnici, comunque viene garantita una istruzione e formazione di base, vale a dire lo studio dell'italiano, di una lingua straniera o anche di due lingue straniere, della matematica, della storia e così via. Quindi comunque viene garantita a tutti una cultura generale. Per quanto riguarda questo aspetto pratico, vedete per esempio che già al primo anno di questi percorsi viene richiesto un minimo di 150 ore in impresa formativa simulata e visite aziendali. Essendo i ragazzi piccoli svolgono ancora questa attività pratica ancora a scuola o presso l'ente di formazione. Mentre poi dal secondo anno si passa direttamente ad attività di stage in impresa, quindi secondo e terzo anno o poi quarto anno nel caso di percorsi quadriennali, con la possibilità da quest'anno anche di proseguire il percorso formativo con un contratto di apprendistato. Cos'è un contratto di apprendistato? In particolare l'apprendistato di primo livello è un contratto che permette al ragazzo di avere già un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di approfondire e di imparare le tecniche di una particolare professione direttamente in impresa e poi sempre a scuola o presso l'ente di formazione proseguire con la formazione di base. Cosa consente questo tipo di percorso? Come anche il fatto che si effettuino molte ore di stage durante l'anno, quella di accompagnare un ingresso lavorativo sostanzialmente immediato, quindi o dopo il terzo anno o dopo il quarto anno un ingresso già nelle imprese. Quindi dopo l'ottenimento di una qualifica o di un diploma si prosegue entrando direttamente nel mondo di lavoro oppure si può continuare a specializzarsi per chi è interessato attraverso ulteriori percorsi di istruzione tecnica specialistica ovvero gli IFTS che corrispondono sostanzialmente a un quinto anno e gli ITS che corrispondono a una formazione post scuola diciamo. Sono percorsi molto specialistici e che rispondono anche a particolare esigenze del mercato del lavoro e delle imprese che oggi sono sempre più specializzate e che quindi richiedono figure molto particolari. Oppure si può sempre per chi lo desiderasse rientrare in un percorso scolastico per ad esempio ottenere il diploma di maturità e quindi con tutto ciò che questo comporta in quanto titolo quindi eventualmente per il proseguimento degli studi o per dei concorsi e così via. Quindi è comunque sempre garantita la possibilità di rientrare nel sistema scolastico e ottenere il diploma. Entrando velocemente nel dettaglio dei percorsi che sono offerti nella nostra regione partiamo con i percorsi quadriennali che quindi giurano appunto 4 anni. Il primo è quello di tecnico degli impianti elettrici che si svolge a Châtillon presso il CNOS Don Bosco e principali materie di indirizzo, disegno tecnico, progettazione elettrotecnica, sbocchi professionali, lavoro presso imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici e sistemi di varia tipologia sia in ambito civile che industriale. L'aspetto interessante di questo percorso è che dopo due anni di lavoro qualificato come dipendente quindi dopo l'ottenimento del diploma volendo si può diciamo avviare anche un'attività in proprio. Altro percorso quadriennale è quello nel settore del benessere. L'aspetto interessante di questo percorso è che si inizia con un primo anno comune e poi prosegue con due differenti diciamo filoni, uno per chi desidera diventare acconciatore, uno per chi desidera diventare estetista. Appunto dura quattro anni, si svolge a Brissogno presso progetto formazione alla torre delle telecomunicazioni. Le principali materie sono naturalmente legate alle specificità delle due professioni e l'aspetto interessante di questo percorso è che l'esame di diploma consente automaticamente l'abilitazione alla professione. Sempre tra i percorsi quadrinnali abbiamo un nuovo percorso tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali anche detto tecnico informatico. Si svolge anch'esso a Brissogno presso progetto formazione, torre delle telecomunicazioni ed è un percorso dedicato agli aspetti digitali, tecnologici e più innovativi. È una figura peraltro particolarmente richiesta, poi ne parleremo più avanti e che quindi consente poi uno sbocco lavorativo non solo in aziende specifiche del settore della comunicazione e dell'informatica, ma anche in tutte quelle aziende che comunque hanno bisogno al loro interno di un tecnico di questo tipo. Passiamo ora invece all'offerta di percorsi triennali, quindi che durano tre anni e che danno in esito una qualifica professionale. Il primo è quello di installatore e manutentore di impianti elettrici che è offerto presso il Corrado Gex di Aosta, anche qui le materie sono quelle tipiche di questo indirizzo, quali tecnologie elettriche, elettroniche e meccaniche e anche qui naturalmente gli sbocchi professionali sono in particolare nel settore delle costruzioni e nel settore industriale. C'è poi il percorso dell'operatore agricolo montano, particolarmente legato al nostro territorio, si svolge presso l'Istituto Agricolo Regional qui ad Aosta, dura tre anni, le materie sono chiaramente legate al mondo dell'agricoltura, quindi frutticultura, viticultura, orticoltura, produzioni animali e lo sbocco è chiaramente verso le aziende di questo settore, quindi consorsi cooperativi agricole che sono anche abbastanza tipiche del nostro territorio. Come tipico del territorio naturalmente sono le professioni turistiche e quindi in questo senso è attivo un percorso anche qui che consente poi uno sdoppiamento, quindi il percorso nel settore turistico ricettivo o nelle professioni legate alla gestione della sala e del bar oppure nelle professioni legate alla cucina, si svolge questo a Châtillon presso la Fondazione per la formazione professionale e turistica, dura tre anni e chiaramente è un percorso legato agli aspetti ad esempio dell'enologia, della merceologia, quindi legate alla gestione sia della cucina che della sala e naturalmente lo sbocco professionale è verso le aziende turistico ristorative. Infine abbiamo un altro percorso, sempre triennale, nel settore della meccanica auto che anche qui si sdoppia, quindi prevede un percorso legato alla carrozzeria e un altro legato invece alla meccatronica. Si svolge anch'esso a Châtillon ed è offerto dal CNOS Don Bosco, chiaramente sempre dura tre anni, in esito la qualifica professionale, materie anche qui legate in particolare alla professione quali l'elettrotecnica, l'elettronica, tecnologia dell'automobile, meccanica e tecnologia della carrozzeria e anche qui gli sbocchi professionali sono chiaramente nel settore di riferimento, quindi la manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Aggiungo solo un ultimo dettaglio e poi lascio la parola al coordinatore che è legato al fatto che questi percorsi sono continuamente pensati e aggiornati facendo proprio riferimento ai fabbisogni del nostro territorio, quindi c'è chiaramente una richiesta di formazione più generale come quella che abbiamo visto nell'illustrazione dei percorsi dell'istruzione tradizionale, ma c'è anche una grande esigenza di professionalità molto più tecniche o molto più legate al mondo dell'impresa. Quindi quello che ci teniamo a sottolineare è che questi percorsi in genere comunque garantiscono un inserimento abbastanza veloce nel mondo del lavoro proprio perché sono percorsi costruiti anche con le associazioni di riferimento, anche con le imprese di riferimento e con le quali c'è un rapporto continuo proprio per questi stage, per questi tirocini e molte volte anche per questi contratti di apprendistato. Sì, aggiungo solo due parole sui fabbisogni delle imprese e prima di farlo volevo dire che per chi fosse interessato a questa tipologia di percorsi noi abbiamo preparato una guida che è qui poi a disposizione, l'abbiamo fatta anche in forma cartacea perché oltre che metterla sul sito nel canale lavoro del sito istituzionale della regione e se siete interessati potete ritirarla prima di uscire. I fabbisogni formativi che noi abbiamo individuato partono, discendono dai fabbisogni occupazionali. Che cosa chiedono le aziende del nostro territorio? In questo momento tutto, nel senso che la richiesta di lavoratori da parte delle aziende di questa regione così come delle aziende di tutto il territorio nazionale, come si legge su tutti i giornali, è altissima. Non si trovano competenze, non si trovano lavoratori, neanche noi riusciamo a soddisfare le richieste che ci arrivano come centri per l'impiego e dipartimento politico del lavoro. Quindi la fame di competenze a tutti i livelli delle imprese è un fatto conclamato. Questo significa che viviamo in un contesto in cui i ragazzi, che tra l'altro sono sempre meno a causa della crisi demografica, hanno molte opportunità. Per cui la scelta che farete fatela sulla base delle vostre attitudini perché sicuramente troverete spazio nel mondo del lavoro. Le filiere che sono più richieste in questo momento e che probabilmente continueranno nei prossimi anni sono ovviamente quella sociosanitaria, la filiera green, quindi le due filiere delle transizioni, quella green e quella tecnologica su cui già si è detto sia come risposta dal settore dell'istruzione ma anche dal settore della formazione professionale e tutto l'ambito delle manutenzioni perché l'evoluzione dei processi produttivi in chiave tecnologica richiede dei manutentori che siano evoluti ma in grado di interpretare sia le logiche industriali che quelle dei processi tecnologici. Abbiamo poi fatto un affondo all'interno di questa regione facendo un'analisi sulle aziende del settore turistico ricettivo che è quello più trainante nella nostra regione ed è emersa una esigenza non tanto di professionalità elevate che comunque sono presenti ma paradossalmente più facili da individuare nelle reti nazionali ed internazionali quanto di professionalità di base, quindi si cercano cuochi, si cercano operatori di cucina, si cercano addetti alla reception, addetti alla sala bar, operatori di piccole manutenzioni negli alberghi e poi sono emerse anche delle figure nuove su cui stiamo lavorando per creare dei profili professionali dedicati come il gestore di spa, nei nostri alberghi sono presenti sempre delle piccole spa e quindi è necessario anche saperle gestire sotto il profilo organizzativo ma anche economico e poi la figura di un operatore che segua la moda diciamo del cicloturismo e dell'e-bike, quindi una figura che possa garantire alle strutture ricettive e turistiche presenti sul territorio sia la manutenzione delle biciclette ma anche la gestione di noleggi piuttosto che di attività correlate a pacchetti turistici. Su queste professioni insieme all'Associazione degli albergatori stiamo lavorando e attualmente l'altro filone su cui ci si sta impegnando è quello di individuare delle competenze trasversali su tutto il personale impiegato nelle strutture turistiche per raccontare meglio il nostro territorio. Sono poi emerse le necessità di competenze trasversali come quelle digitali, di marketing turistico, di lingue che possano far crescere le figure già presenti nelle nostre strutture. Basta, io direi che altro non mi dilungherei salvo il fatto appunto di precisare che le richieste che noi processiamo all'interno dei centri per l'impiego e in ultima analisi del Dipartimento Politiche del Lavoro evidenziano, come dicevo prima, in questo momento un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro che spesso ci costringe ad andare a riqualificare del personale già esistente che molte volte viene espulso dal modo del lavoro per una serie di elementi legati alle crisi aziendali si trova fuori dal mercato del lavoro senza competenze e questo comporta oltre che problematiche a carico del singolo anche uno sforzo dell'organizzazione pubblica specialmente nell'andare a ricostruire e ricostituire attraverso operazioni di reskilling le competenze di questa forza lavoro cosa che se a Monte ci fosse stata una scelta più consapevole delle strade da intraprendere per la formazione e per la costruzione delle competenze probabilmente non sarebbe successo. fine. Grazie.